Rispetto a quelle che erano le mie aspettative personalmente per entrambi ne aspettavo qualcosa di più da entrambi dunque darei un 5 e mezzo a maggio e un 6 a crescita Non siamo d'accordo, vedi che il calcio è bello Centrocampo, Pirlo Centrocampo, Pirlo Insomma il gioco è il nostro